allora ciao a tutti benvenuti su questa pagina su questa nuovissima pagina io sono alessandro e questo video è il primo video il primo contributo ufficiale che pubblico e ha lo scopo di illustrare che cosa facciamo qua qua ci occupiamo di sogni di passioni di cose anche un po folli pazze più nello specifico di puzzle di puzzle però fatti in maniera nuova diversa strana e fatti non con gli occhi infatti la maggior parte delle persone che staranno qua almeno per per l'inizio saranno persone con una disabilità visiva come me io sono cieco ovviamente cieco e nonostante ciò faccio puzzle i puzzle possono essere fatti anche se non ci si vede questa è la novità e il proposito di questo spazio è appunto quello di intanto divertirsi condividere questa passione spiegare come è possibile e questo lo approfondiremo con dei prossimi video spiegare come è possibile possibile fare puzzle con questo con questa nuova visione con questo nuovo metodo sono benvenuti tutti ovviamente perché anche tra chi ci vede magari può sorgere la curiosità di fare i puzzle in maniera diversa perché no magari trovano la cosa ancora più interessante perché attenzione le cose strane a volte portano a degli sviluppi inaspettati e allenare la mente a ricercare vie nuove diverse crea neuro connessioni e amplia il nostro il nostro spazio il nostro mondo il nostro cervello sostanzialmente quindi questo appunto è una semplice presentazione presto pubblicherò altri video ci saranno altri contributi si inizierà andare più nello specifico si inizierà a parlare anche di cose un po tecniche se vogliamo vi invito a diffondere questa questa novità a divulgarla attraverso alle conoscenze un po strane particolari che che avete a tutti coloro possono essere curiosi di cose nuove come questa scrivete commentate date le vostre impressioni e soprattutto approcciatevi a questo mondo con curiosità e con il cuore aperto vi mando un grande abbraccio vi do appuntamento al prossimo video ciao da alessandro